Ciao a tutti, in questo video vedremo la rifinitura atletica del venerdì, vedremo la settima parto, perlomeno la settima variante, con tre argomenti principali. Il primo sono gli spring curve linei, il secondo è un'esercitazione, scusate, la rapidità di gambe, il terzo è un'esercitazione più situazionale. Ovviamente non necessariamente queste devono essere fatte solo il venerdì, per chi fa tre anni a settimana intendo, ma tutte le volte che si lavora su questa componente, sulla rapidità. La rapidità, come sapete, la divido solitamente dal punto di vista di dati con tre punti, quella analitica, cioè in cui si focalizza prevalentemente sui atteggiamenti motori, che è quello che vedremo sulla rapidità di gambe, globale, in cui si cerca la massima velocità esecutiva in un contesto, e questo lo vedremo nei sprint curve linei, e situazionale, in cui si considerano anche un minimo le caratteristiche del gioco, anche se non del gioco, almeno la presenza di un avversario, e quello che vedremo nell'ultimo esercitazione. Qui sono rappresentati un ulteriore approfondimento, scusate, schematizzazione delle esercitazioni che andremo a vedere. Quelle curve linee lavoreremo prevalentemente in potenziamento al regime di accelerazione di velocità, con la rapidità delle gambe cercheremo di sviluppare l'adattamento coordinativo alle situazioni di gioco, cioè la capacità del giocatore di adattare la frequenza dei movimenti in base a situazioni di gioco. E con il terzo lavoreremo su un mezzo allenante più utile per il divertimento, o comunque per l'accelerazione. Partiamo da un concetto sulle traiettorie curve linee. È stato visto da diversi studi che l'85% degli sprint in partita sono curve linee, cioè non rettiline, e neanche cambi di direzione, sono proprio curve linee. Queste sono solitamente le traiettorie di smarcamento, o l'adeguamento a una trattoria della palla. Non solo, la gamba interna, in una traiettoria curve linee, ha un tempo di contatto maggiore, perché è più sollecitata. Soprattutto quando si corre verso il lato debole. Mentre in un cambio di direzione è contrario. La gamba esterna è più sollecitata, pensate un cambio di direzione di 90 gradi, è evidente che la gamba esterna è maggiormente sollecitata. Mentre se faccio la stessa traiettoria curve linee, ma in curva invece che con l'angolo, è la gamba interna che ha un maggior tempo di contatto. Quindi è importante, tanti cambi di traiettoria rettilinei sono importanti tanto quanto i cambi di direzione, perché sono due atteggiamenti motoridi che sollecitano i muscoli in maniera diversa. Non solo, si ipotizza che lo sprint curve linee sia utile anche per l'allenamento dell'efficienza meccanica, perché sollecita un po' di più dalla gamba interna e di conseguenza con una piccola sollecitazione in più può migliorare l'efficienza meccanica. Qui vediamo in alto la struttura utilizzata in queste ricerche. Si utilizza praticamente la lunetta dell'area di rigore. Sprint di 17 metri di sviluppo, queste sono le dimensioni della lunetta dell'area di rigore. E sono stati utilizzati, i risultati che si sono avuti si sono avuti su questo. Cioè quando io dico che in uno sprint curve linee la gamba interna è più sollecitata, in questo tipo di sprint curve linee. Questo è la stessa cosa, solo con uno sviluppo maggiore. Per chi volesse ad esempio fare un 30 metri invece che un 17 e 15, può utilizzare queste misure. E lo sviluppo, e l'angolo, anche se non si parla di angolo in questo caso, è lo stesso. Diciamo che il diametro della figura è lo stesso. Questo è un altro esempio in cui non si utilizzano solo traiettorie ma due traiettorie nello stesso momento. Vi faccio vedere un esempio per farvi un'idea di quello che può essere ovviamente l'effetto allenante. Ok, qui mettono tre curve, però insomma secondo me sono sufficienti di due. Come vedete la sollecitazione è molto elevata. Si vedono i giocatori veramente con un grado di sollecitazione molto elevato. Soprattutto della gamba interna. Torniamo alla presentazione. Quindi qual è la caratteristica del sprint curvelineo? È una capacità di attività in una situazione che è molto frequente in partita. Quindi credo che questo tipo di sprint sia molto molto importante. Tanto quanto lo sono i cambi di direzione. Alcune cose per stare attenti o perlomeno per quella che è la mia esperienza. Il terreno non deve essere né troppo duro né troppo molle. Cosa vuol dire? Su un terreno duro o perlomeno con poca erba, terreno secco come può essere la caratteristica dei campi primaverili quando piove poco, è molto impegnativo per le caviglie. Forse è meglio scegliere, quando i campi sono duri, dei tratti di erba, anche dei pezzi di campo fuori dal campo da calcio in cui c'è l'erba un pochino, non dico alta, ma fissa. Perché se il campo è troppo duro e c'è poca erba, l'associazione è troppo eccessiva, delle caviglie è troppo eccessiva e diventa poi anche poco allenante perché i giocatori non vanno forti più di tanto. Se il campo è troppo duro. non deve essere neanche troppo molle, cioè non deve esserci neanche troppo fango, altrimenti cosa succede se è troppo fango? Che non riescono a curvare con intensità e devono farlo più lentamente, quindi non diventa più allenante. Ovviamente, come tutte le cose, bisogna abituarsi, non bisogna iniziare a somministrare questi mezzi subito con volumi elevati, ma prima di tutto con dei piccoli volumi alla volta, considerando che possono essere di 17 metri, 28 metri di sviluppo, considerarli con degli sprint a tutti gli effetti. Bene, considerando appunto le distanze. Questa è la seconda cosa che vediamo, cioè quella riferita alla rapidità di gambe, che stimola la frequenza dei passi in regime di velocità coordinativa, adesso vedremo meglio il perché. Guardiamo questa figura, ci sono la stessa struttura, però affrontata in maniera diversa. Qui è un insieme di cinesini, 12-15, adesso non ho presente, e in cui tra il primo e il secondo c'è una distanza di mezzo metro, e tra l'ultimo c'è una distanza di 2 metri. In mezzo la distanza aumenta gradualmente da cinesino a cinesino. Se io lo affronto in questo modo, in questo verso, come la parte in atto, ovviamente sarà una corsa in accelerazione. Di volta in volta io dovrò aumentare la potenza espressa ad ogni passo per andare sempre più forte. E questo è una cosa abbastanza naturale. Mentre se lo faccio nel verso opposto, che è quello che ritengo più allenante, per la rapidità di gambe, ovviamente io dovrò cercare di mantenere comunque una velocità elevata, aumentando la frequenza dei passi. Perché io non potrò aumentare la potenza del passo, perché sarà sempre più corto. Quindi se voglio partire veloce, rimanere veloce, dovrò aumentare sempre di più la frequenza del passo. Questo, provate a farlo anche voi, non solo a farlo fare ai vostri ragazzi, è molto allenante per la frequenza dei movimenti. È molto allenante, abitua il giocatore a lavorare molto, in particolar modo, sulla flesso e estensione delle anche caviglie e ginocchio. Cosa vuol dire? Che se io sono in questa fase e devo mantenere la velocità, cioè correre il più forte possibile, aumentare la frequenza, lo stimolo più spontaneo potrebbe essere quello di frenare portando indietro il corpo. Invece non deve essere quello, lo stimolo è importante, deve essere quello di sollevare il ginocchio piuttosto che portare indietro il corpo. Cioè aumentare la frequenza di flesso e estensione di anche ginocchio e caviglia. Aumentando la frequenza del movimento riesco maggiormente a mantenere la velocità, anche in un contesto in cui i passi diventano più corti. Comunque è più facile a farsi che a dirsi, provate a farlo fare e vedrete anche voi gli effetti. Oppure, un'alternativa è quella di fare cinesini tutti della stessa distanza, e fare, iniziare con due passi a ogni spazio, poi si può ovviamente variare. Fare dei cinesini che sono distanti 3 metri, facendo sempre due passi a ogni spazio, in questo caso si lavorerà meno sulla frequenza e maggiormente sulla potenza. Oppure, nello stesso contesto, fare tre passi a ogni spazio invece che due. Quindi è evidente come per andare veloce dovrò aumentare la frequenza dei passi. E la capacità di aumentare la frequenza dei passi, potete ben intuire come sia importante per adattarsi alla variabilità del contesto del gioco del calcio. Oppure, è ancora più difficile alternare due e tre passi a ogni spazio. Quindi qui faccio due passi, qui tre passi, qui due passi, qui tre passi, qui due passi, qui tre passi. Questo ha dei grossi adattamenti a livello coordinativo, perché non solo spinge il giocatore a aumentare la frequenza, ma a cambiarla, non solo a tenere una frequenza dei passi elevati, perché se io tengo due passi in due metri la frequenza deve essere molto elevata, se devo correre forte. Però cambiando due, tre passi ogni volta, non alleno solo la frequenza, ma anche cambiare la frequenza dei passi in un contesto, in un contesto e di conseguenza è molto allenante sempre per il gioco del calcio, perché chiede un'elevata variabilità dei gesti motori. Questo è il terzo e l'ultimo, è quello più ludico, che lavora prevalentemente sull'accelerazione, vedete la struttura è molto semplice, tra il cono giallo e quello rosso ci sono due metri, qui vengono messe due cinesine a circa due metri dei coni, chiaramente dipende molto dalla categoria, dall'età, diciamo. Allora, lo scopo del rosso è arrivare al cono rosso più velocemente di quanto arriva al cono giallo il giocatore giallo, molto semplice. Quindi il giocatore rosso deciderà quale sarà il cono dove arrivare prima, quindi potrà fare delle finte, delle controfinte, un'accelerazione immediata per arrivare il più prima possibile a toccare il cono, e il giallo di contro dovrà arrivare prima possibile al suo cono. Gli ho messi a distanza di due metri l'uno dall'altro, perché per esperienza posso dire che se si vuole dare pari opportunità di arrivare al cono, essendo questo, quello rosso, quello che sceglie, avrà comunque sempre un piccolo vantaggio rispetto al giallo. E di conseguenza è giusto che il giallo abbia il traguardo, tra virgolette, un po' prima. Per cosa sono messi questi cinesini? Quindi, quando il rosso va oltre il cinesino, deve scegliere quel cono. Mi spiego meglio. Finché rimane tra questi due cinesini, il rosso può fare anche delle finte, ma non può farle ovviamente all'infinito, e quindi, oltre a dare un tempo, si mette anche il cinesino per dire che quando il rosso arriva oltre questo cono, questo cinesino dovrà scegliere obbligatoriamente il cono più vicino. Bene, quindi non può arrivare qua a far finta di toccarlo e può andarla in fondo. Dovrà muoversi all'interno di questo contesto, di questo spazio, tra questi due cinesini, e una volta che è scelto la direzione, dovrà ovviamente andare fino in fondo. Stessa cosa vale ovviamente per il giallo. Perché è lo repito più situazionale? Perché non è come in questo esercizio, o in questo, o anche in questo, in cui la traiettoria di corsa sono già definite. Sono già definite quelle traiettorie di corsa. Il cacciatore sa sin dall'inizio, che alla fine dell'esercitazione, o perlomeno della struttura, dove inizia e dove finisce. Questo invece no. È ovviamente tutto un processo decisionale da parte del rosso, in base anche a come legge le finte del giallo, e il giallo deve sapersi adattare al rosso, che fondamentalmente è quello che accade in partita. Partita io non ho delle strutture fisse dove corro, o mi devo adattare alle varie situazioni di gioco. E l'adattamento, o la ricerca di ingannare l'avversario, che è come per il rosso, diciamo, questo tipo di stimolo è molto più specifico nei confronti, perlomeno dal punto di vista mentale, o perlomeno psicofisico. Mentre questo, e comunque quelli che abbiamo visto sopra, vanno ad agire su alcune componenti motori, perché è importantissime, e quindi se io voglio lavorare su queste componenti, devo lavorare in questo modo, questo è molto più specifico. Sta poi alla sensibilità dello staff capire quando è giusto lavorare con stimoli più specifici, in questo caso si lavora molto sulla cellazione, ovviamente, e quando invece lavorare su stimoli più analitici per andare a colmare delle lacune. Ovviamente fare un po' uno o un po' l'altro aiuta sempre. Poi sta alla sensibilità dello staff capire cosa è meglio preferire in ogni momento. Va bene? E qui faccio vedere solo una finta, ad esempio questo rosso che fa finta di andare verso questo cono di sinistra, e poi dopo cambia direzione e va dall'altra parte. Concludiamo, quindi, variare le stimole delle rapidità all'interno del seduto di stimolare permette di preparare il giocatore alla variabilità che affronterà in partita. Questo è abbastanza ovvio. Più cose diverse faccio, più meglio preparo il giocatore alla variabilità della partita. Se faccio sempre le stesse cose, serve poco. Alcuni stimoli maggiormente coordinativi ne possono essere fatti con un volume più elevato. Cosa vuol dire? Ad esempio, uno stimolo come questo, o come questi, che sono prevalentemente coordinativi, non prevedono delle grossi frenate, delle grosse sollecitazioni centriche dei muscoli, possono essere fatti con un volume maggiore. In conseguenza, posso tenere in considerazione di farli anche in altri momenti della settimana, non solo il venerdì, o anche con un volume abbastanza elevato. A mio parere, sono molto utili questo, oppure anche questo, da fare, diciamo, alla fine del riscaldamento. Quando, ad esempio, non sempre, i riscaldamenti, spesso quando vengono fatti con palla, non sono molto intensi, di conseguenza, inserire un mezzo con queste caratteristiche, aiuta molto a preparare, a preparare poi la fase successiva dell'allenamento, ma anche a dare un piccolo stimolo allenante. Anche perché, diciamo, si fa abbastanza la svelta, non solo a prepararli, ma anche ad eseguire in 4 minuti, si fanno tranquillamente 4 ripetizioni, forse anche di più a tutta la squadra. Bene, spero che questo video vi sia piaciuto, abbiamo visto queste tre cose qua, e in descrizione lascio il link, con l'articolo testuale, con tutto quello che ho spiegato, è un articolo in cui trovate anche le immagini, e di conseguenza, ovviamente, se vi è piaciuto, mettete mi piace, e se vi va, iscrivetevi al canale. Ciao a tutti!